Ciao ragazzi, in questo video vi faccio vedere l'applicazione dei prodotti La Femme che mi hanno mandato di cui vi ho fatto l'unboxing e in questo caso è il semi permanente appunto io ho già rimosso il gel, preparato le unghie, quindi pulito il giro cuticole, opacizzato l'unghia con grana 180 e ora vado ad applicare i prodotti ho applicato il night prep e ora come vedete sto applicando la base vitaminica non c'è bisogno del primer perché come vi dicevo nell'altro video sono prodotti formulati per essere applicati anche senza l'utilizzo del primer ovviamente se avete unghie molto deboli ve lo consiglio e ve lo consigliano anche loro dopo aver applicato la base vado a mettere in lampada, io utilizzo la UV LED e le lascio 30 secondi se utilizzate una lampada UV normale 120 secondi e ora vado ad utilizzare il colore mi sono innamorata di questo color aloa e fa molto effetto perché è molto luminoso non è eccessivo però per questo periodo estivo mi è piaciuto tantissimo e ho ricevuto anche dei complimenti perché è rimasto bello luminoso per tutte e tre le settimane in cui mi ha durato appunto questo semi permanente allora ho notato una cosa se lo applico su una ricostruzione quindi su una base opacizzata diciamo che potrebbe bastare anche solo una passata perché viene bello coprente, bello intenso io do sempre due passate per togliere magari quell'effetto delle righette che potrebbe lasciare il pennello mentre come vedete sulla base appiccicosa della base viene leggermente più trasparente quindi ci vogliono per forza due applicazioni ma come vi dico io sempre do due passate quindi poco mi cambia non si ritira quindi è molto pratico sia nel giro cuticole che in punta non si è ritirato e quindi ho dato due passate molto velocemente, tranquillamente senza stare troppo attenta a punti in cui il colore poteva ritirarsi come vedete l'applicazione è molto semplice e veloce io sono abituata a utilizzare un pennello a punta tonda per mettere il colore e diciamo che col pennello a punta tonda si arriva bene al giro cuticole senza andare a toccarlo però questo pennello nonostante abbia la punta piatta non è troppo largo ma neanche troppo fino quindi si riesce ad applicare bene riuscite a fare bene il giro cuticole poi se avete un giro cuticole molto rotondo ovviamente vi consiglio con un pennellino a punta fine di andare a rifinire al meglio per il mio tipo di unghie e sulle unghie in cui l'ho utilizzato mi sono trovata molto bene anche con questo pennellino come vedete in questo video vi faccio vedere l'applicazione sia sulle mani che sui piedi la procedura è sempre la stessa però volevo farvi vedere appunto lo stesso procedimento e ci ho messo pochissimo tempo già anche sulle mani facendolo da sola quindi facendo prima una mano e poi l'altra in una quarantina di minuti esagerando ce l'ho fatta quindi se avete poco tempo io vi consiglio assolutamente questo metodo e ora vado ad applicare il sigillante senza dispersione mi è piaciuto molto anche questo perché è rimasto lucido per tutto il tempo non si è opacezzato non si è graffiato non si è sbeccato io semi permanente di solito utilizzavo un sigillante con dispersione perché mi dava l'idea che fosse più flessibile più morbido mentre con quelli senza dispersione ho avuto dei problemi di crepe perché appunto essendo più rigido tendeva a crepare invece questo vi dico non ho avuto nessun problema quindi probabilmente è senza dispersione ma molto flessibile molto elastico quindi lo consiglio tantissimo e poi è anche veloce perché voi adesso come avete applicato il sigillante mettete in lampada e potete anche uscire e andare via anche senza applicare per forza l'olio cuticole cioè siete pronte quindi è molto veloce poi ovviamente è sempre consigliabile applicare l'olio cuticole per normalizzare il pH della pelle che siete andati a trattare e questo ha un profumo di fragola che è favoloso buonissimo l'unica pecca per me è il pennellino perché io preferisco quello col contagocce però dai è un pennellino morbido quindi non dispiace non mi dà fastidio però preferisco sempre l'applicazione a contagocce ma lo perdono perché ha un profumo veramente fantastico anche dopo aver sciacquato le mani il profumo è rimasto e questo è il risultato io col semipermanente ci ho sempre litigato perché non mi durava più di una settimana iniziava ad alzarsi dai bordi mi si sbeccava mi si rompeva poi dopo io essendo ex onicofagica andavo a mettermeli in bocca e quindi una settimana non ci arrivava invece questo non ho avuto nessun tipo di problema di sollevamento non si è sbeccato quindi come una ricostruzione normale nel senso che il colore è rimasto intatto e quindi non ho avuto nessun tipo di problema e mi è durato tre settimane come vi dicevo perché appunto la ricrescita era abbastanza veloce mentre sui piedi potrei andare avanti anche tutta l'estate perché non non ho quasi ricrescita praticamente come vedete il mignolino mio è quasi inesistente quindi vado ad applicare sia la base che il colore che il lucido con un pennellino a punta fine e questa sì i piedi diciamo che per me sono un po' una pecca perché ho le unghie piccolissime quindi anche il pennellino questo è stato bravo ho un po' sbavato sono un po' pasticciona quindi è colpa mia delle sbavature non del prodotto in sé però nonostante le sbavature mi è durato e mi è piaciuto molto sia l'abbinamento l'effetto mi dico veramente adatto per l'estate e anche il colore con il sole non si è sbiadito ci è rimasto bello vivo tutto il tempo quindi sono molto soddisfatta di questi prodotti semi permanente lo utilizza ancora soprattutto sui piedi perché sui piedi il gel l'ho sempre sconsigliato quindi utilizzo semi permanente e anche sulle mani perché è un metodo veloce e che comunque come vedo mi dura quindi ovvio che non posso utilizzare usare una lunghezza eccessiva sulle mie unghie perché essendo un po' deboli questo è il massimo che mi posso permettere con un semi permanente però sono soddisfatta perché quando ho poco tempo so che semi permanente è veloce e ho le unghie in ordine per diverse settimane quindi consiglio a tutti soprattutto a chi ha poco tempo da dedicare alle unghie e niente questa è l'applicazione sui piedi in cui ci sto un po' litigando anche perché sono messa in una posizione assurda per poter fare i piedi e e non è venuto benissimo lo ammetto ho sbavato però l'effetto poi finale da lontano non si vedono le sbavature quindi non è male è lucido forse non ve l'ho detto ma in lampada l'ho tenuto 60 secondi ed è rimasto lucido anche dopo aver applicato l'olio cuticolo e non si è opacizzato quindi vi dico non non ha nessun problema io passo la lima perché come vi dicevo ho sbavato ovunque anche la lima è molto buona perché ho fatto sia le mani che i piedi e mi è durata quindi sono molto soddisfatta per qualsiasi domanda su questi prodotti scrivetemi pure qui o anche su facebook e spero di potervi aiutare anche per altri consigli sapete che sono qui oppure commentate qui sotto al video se vi è piaciuto un pollice in alto continuate a seguirmi e vi mando un bacio a tutte ciao ciao